Siamo a Milano Volosa, il contest sui panini, ho vinto panini durini, ma sono qui con panini di mare che visto la mia passione per i gusti marinari è stato il panino preferito. Ce lo racconta Mario? Semplicemente gamberi rossi crudi, sale, olio, pepe. I gamberi rossi sono dei gamberi rossi di Mazzara che io mi faccio lavorare direttamente in barca in Sicilia senza additivi aggiunti, senza solfiti, semplicemente gambero rosso crudo nel panino. La maglia della signora si è fatta e quindi praticamente poi dopo un pochettino di stracciatello. Un po' di sale, un po' di pepe, olio che è sempre importante perché in buia noi abbiamo più olio che acqua quindi tendenzialmente ci piace utilizzare. E' così semplice. E' questo. Ecco qua. E adesso io lo sogerò per voi. Grazie a Mario e a panini di mare. Prego.